Omonia, Manchester United 2 a 3. L'Omonia perde contro un Manchester in grande spolvero in questa partita di Europa League di stasera dove il Manchester è riuscito a fare grandi cose. Due soli gol per l'Omonia, l'Europa League premia dunque il Manchester United. Vediamo nel dettaglio i gol, poi facciamo un piccolo riassuntino. Omonia 2, i gol sono a firma di Karim Ansari Fard al 34esimo del secondo tempo e l'ultimo a firma di Nikolas Pangagilouti all'85esimo del secondo tempo. Le risposte del Manchester arrivano con i tre gol, due fatti da Marcus Rashford al 53esimo del secondo tempo e sempre all'84esimo sempre a firma di Rashford e poi l'ultimo, o meglio il secondo a firma di Anthony Martial o Martial a firma e al 63esimo del secondo tempo. Beh, complimenti al Manchester United che molto spesso riesce a vincere e questa ne è stata la relativa prova da Leandro Naratori Pariano di Youtube Italia e tutto, iscrivetevi, seguitevi e commentate. Ciao a tutti.